Sostegno ai cittadini per sgravarli, almeno parzialmente dalle tariffe e tari, in un momento particolarmente difficile in tema di rincari e bollette. E' quanto predisposto dall'amministrazione di Cornedo Vicentino, unico comune dell'Ovest Vicentino ad aver deciso di applicare in urgenza questo tipo di sgravio. Con una norma inserita all'ultimo minuto dal decreto sostegni è stato possibile da parte dei comuni utilizzare dei fondi erogati proprio per il sostegno della cittadinanza e dei cittadini per lo sgravio della tari. E' così che abbiamo fatto una modifica urgente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed inserito in Consiglio Comunale questo tipo di agevolazione che anche quest'anno andrà a favore di famiglie, di imprese artigianali e di imprese commerciali. In particolare si tratta di un fondo di 130.000 euro, spiega l'amministrazione, che verrà impiegato dal comune di Cornedo e che avrà come effetto una tantum, una riduzione della prossima bollettazione del 25% per le famiglie e del 35% per le imprese. Invito tutti i cittadini a verificare la propria bollettazione tari nella seconda tranche che arriverà a settembre perché troverete questo sgravio che abbiamo applicato proprio a favore e in aiuto della cittadinanza.